Un momento di confronto, conoscenza e bilancio dopo pochi mesi dall'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. Se ne è discusso in un incontro all'auditorium Petruzzi di Pescara. A organizzarlo la direzione regionale dell'Inps in collaborazione con l'Anci Abruzzo. L'incontro è rivolto a operatori dei comuni, patronati, CAF, centri per l'impiego, Caritas e tutto il terzo settore. L'Inps con l'Anci ha voluto questo incontro tra le parti interessate per fare il punto su un meccanismo comunque complesso, quale quello del reddito di cittadinanza. Si procede, hanno detto, dei vertici dell'Inps per quanto possibile, senza intoppi, anche se difficoltà indubbie ci sono. Il reddito di cittadinanza, come noti, è un sostegno alle famiglie disagiate in base al proprio ISEE. I sindacati mettono però in evidenza l'anello debole rappresentato sovente dai centri per l'impiego, soprattutto per la carenza del personale. Patto per il lavoro e patto per l'inclusione, quello stabilito dai soggetti interessati, con sgravi e agevolazioni per chi offre occupazione. In Abruzzo a inizio maggio i dati Inps indicano circa 30.000 domande presentate. A livello nazionale sono state presentate circa 1.250.000 domande con un rifiuto del 26% e un importo medio erogato di 550 euro. Tra gli interventi di oggi, Roberto Bianco, dirigente nazionale Inps, e Alessandro Romano, direttore regionale vicario Inps Abruzzo. È un meccanismo complesso, ci sono vari attori coinvolti, lo prova anche l'interesse dell'Anci oggi in questo convegno, proprio perché i comuni sono, insieme ai centri per l'impiego, gli attori coinvolti nella seconda parte della misura, che come è noto consta oltre che di un beneficio economico, anche di una presa in carico da parte a seconda della composizione del nucleo o dei comuni o dei centri per l'impiego. Stiamo procedendo, devo dire che le domande sono quasi tutte lavorate a livello centralizzato, quindi abbiamo buoni esiti. Vi dico solo che per esempio per la provincia di Chieti sono più di 16.000 i cittadini coinvolti nei nuclei che hanno avuto il reddito di cittadinanza. Abbiamo deciso con il direttore regionale di fare questo percorso di affiancamento anche con tutti gli enti che sono coinvolti nel reddito di cittadinanza. Quindi da questo nasce questo incontro, ce ne sarà un altro molto importante il 17 giugno all'Aquila, il presidente Tridi, con il nostro direttore, la dottoressa Di Michele, il direttore generale, appunto affronterà di nuovo questo tema. L'importante ruolo dei comuni è stato ribadito da Luciano Lapena del Lanci che deve essere di controllo per verificare se si ha diritto al reddito di cittadinanza.